Buongiorno e buon sabato 15 gennaio 2022. Benvenuti al nostro almanacco, quindicesimo giorno dell'anno, seconda settimana. Alla fine del 2022 mancano 350 giorni. A Roma sole sorge alle 7.35 e tramonta alle 17.04. A Milano sole sorge alle 8 e tramonta alle 17.05. La Luna tramonta alle 5.47 per levarsi alle 14.42. I Santi del Giorno. San Mauro, Monaco, protettore di zoppi, calderai, carbonai e giardinieri, San Bonito di Clermont, Vescovo e San Botonto, Martire. Mauro è un nome di origine etnica, proviene dal latino Maurus, di pelle scura, e serviva a indicare gli abitanti del Nord Africa, tra l'attuale Algeria e il Marocco, ossia quella che allora veniva chiamata Mauritania. Il termine proviene dal greco a Mauros, Moro, scuro. Nell'antica Roma divenne un cognome nella forma Maucius o Mautius. Un'altra concezione attribuisce al nome un'origine fenicia. Maurim, occidente, serviva ancora una volta a indicare l'Africa occidentale e i suoi abitanti. Proverbio del giorno Un bel gennaio, bell'anno recca Aforisma del giorno di Platone Ogni re deriva da una stirpe di schiavi ed ogni schiavo ha dei re tra i suoi antenati. Accadde oggi. In 1945 viene fondata l'agenzia ANSA. La più autorevole agenzia di stampa italiana vide la luce durante le ultime fasi della seconda guerra mondiale su iniziativa delle tre diverse anime della resistenza, popolare, socialista e comunista. Strumento di divulgazione delle loro battaglie erano i quotidiani il popolo, l'avanti e l'unità, rappresentati rispettivamente da Giuseppe Liverani, direttore amministrativo, Primo Parlini ed Amerigo Terenzi, consigliere delegato. I tre presentarono all'esercito alleato la proposta di dar vita a un'agenzia di notizie in funzione di una maggiore e più attendibile informazione per la popolazione. Sei nato oggi? I nate i 15 gennaio lottano contro ogni forma d'oppressione, hanno una grande forza interiore e sono molto rapidi nel fare tesoro dell'esperienza e se anche sei riusciti a bindolarli una volta non ce ne sarà certo una seconda. I nati il 15 gennaio farebbero bene a usare maggiore prudenza nell'abbandonarsi ai piaceri dei sensi, per i quali dimostrano d'avere un vero e proprio debole. Compleanni famosi, 1929 Martin Luther King. Il suo nome è iscritto in quella ristretta cerchia di personalità che con le uniche armi della parola e delle idee hanno cambiato il mondo. 1955 Enrico Mentana Volto simbolo del giornalismo televisivo italiano, l'etica professionale e lo stile che contraddistinguono il suo modo di fare informazione lo avvicinano al classico Anchorman del mondo anglosassone. Se avete notizie e curiosità, scriveteci come sempre a info.via1tv.it oppure info.lombardialai24.it o ancora via Whatsapp al 389 2566 296 Grazie per essere stati con noi e a domani con un nuovo Almanacco. Grazie per essere stati con noi e a domani con un nuovo Almanacco. Grazie per essere stati con noi e a domani con un nuovo Almanacco. Grazie per essere stati con noi e a domani con un nuovo Almanacco. Grazie per essere stati con noi e a domani con un nuovo Almanacco. Grazie per essere stati con noi e a domani con noi. Grazie.